C'ho una voglia di andare al cinema, vediamo che fanno a Torino Splendid, vogliose ed insaziabili per stalloni super dotati Desideri bagnati 2, orge anal best al perverson ad Amsterdam 3 Madonna Invece di leggere tutte quelle scemate, perché non dato un'occhiata alla situazione politica ed economica, che è gravissima E sai che novità? Intanto gira come la giri, cambia mai niente Giusto Ma è gioco forza, finché c'è gente che la pensa come te, non cambierà mai niente Ma dai Lenny, smettila, no? In Italia stiamo bene così, in Italia noi stiamo bene così, chiaro? Tenete Voi di Monte Napoleone, valla a chiedere a quelli della Mirafiori, se hanno da ghignare Ragazzi, siamo in California, mica stiamo a San Arcando I porno capricci di due studentesse